Oggi siamo qui presso l'azienda Gigante e in presenza della moglie di Adriano Gigante, Giuliana. Come è andata quest'anno Giuliana Albinitali? Sta andando abbastanza bene, abbiamo avuto ieri un bel afflusso di gente, anche persone molto interessate e quindi speriamo continui così in queste giornate, di continuare a lavorare bene, a portare in giro quello che è il nostro territorio, far conoscere i nostri vini, soprattutto anche gli autoctoni che stanno facendo una bella strada in questi ultimi anni. Io so anche che tu Giuliana, presso la cantina, ti sei organizzata per ricevere degli ospiti e hai una bella struttura. Ci vuoi parlare di questa struttura e quanti posti ha? Sì, abbiamo recentemente ristrutturato l'azienda, abbiamo fatto la cantina nuova, abbiamo fatto anche un agriturismo con otto camere e una piccola zona relax e diciamo che questo l'abbiamo fatto proprio per poter raccogliere sempre meglio le persone della nostra azienda perché diventa veramente interessante poter organizzare anche dei gruppi ma anche insomma delle persone dei privati o anche diciamo quelli proprio dedicati al settore che possono venire a testare direttamente in azienda quello che è il prodotto, quello che è la filosofia e quello che è anche il nostro territorio, i nostri vini ma anche i nostri cibi perché comunque uno si porta a casa un'esperienza completamente diversa e assolutamente unica. Quindi all'interno della struttura recettiva non soltanto la possibilità di dormire e di passare una settimana in completo relax ma anche la possibilità di fare un percorso degustativo di quello che offre la cantina. Certo, questo è sicuramente il nostro intento e speriamo insomma che nei prossimi tempi venga sempre di più, questa cosa prenda piede, venga conosciuto sempre di più ma proprio anche per tutto quello che è il nostro territorio perché veramente merita di essere scoperto e di essere riconosciuto come merito. Io so che quest'anno è un anno importante per la vostra cantina, è un compleanno molto importante. Sì, assolutamente sì, quest'anno si fanno i 60 anni dell'azienda, l'azienda appunto è nata 60 anni fa e siamo veramente orgogliosi di questo percorso che abbiamo fatto perché siamo partiti come si partiva una volta con poche cose, proprio qualche animale, piccoli appezzamenti e siamo riusciti negli anni con veramente posso dire anche con coraggio e sacrificio e tanta passione ad arrivare insomma ad avere una bella realtà che comunque sta riscuotendo diversi successi e gratificazioni. Allora, per invitare tutti voi a vedere dal vivo questa realtà, vi invitiamo a prevedere all'interno del sito che è stato realizzato con delle immagini anche eloquenti di quello che è questa struttura e il sito si chiama? Il sito si chiama www.adrianogigante.it e la struttura nostra si chiama Gigante Wine & Welcome proprio per accogliere tutto quello che è la nostra offerta e gli ostri. Grazie a tutti